Si dovrebbero spendere mille parole per dire cosa significa veramente fare musica per me. Faccio vedere una parte di me che non posso far vedere normalmente. È quella che ha molto più spazio e quindi ha bisogno di esplodere qualche volta. Quindi se mi togli la musica implodo. Questa esperienza di amici è una grande esperienza. È una scuola di vita. Ma era evidente che tutti e due avevamo qualcosa da dirci. Oltre ad avere una voce che a volte spaventa perché è un po' grossa e graffiata. Però in realtà c'è una grande timidezza. Sono Zik e sono un cantante. Zik e sono un po' grossa e graffiata. Zik e sono un po' grossa e graffiata.